Rinascente collabora con il Salone Satellite da diversi anni, perché Rinascente ha sempre avuto nel proprio DNA una passione per il design. Non a caso il compasso d'oro nasce proprio da noi. Abbiamo sempre avuto uno stretto legame con il Salone del Mobile, da una serie di relazioni che si sono sempre di più sviluppate tra noi e loro, ed è nata una proposta condivisa di ospitare all'interno del nostro design supermarket un piccolo spazio per il Salone Satellite. Per questi giovani designers che si avvicinano al retail e quindi hanno la possibilità di, oltre che mostrare a un grande pubblico, perché in Duomo parliamo di un pubblico che va dagli 8 ai 9 milioni di visitatori l'anno italiano e non solo, i propri prodotti e magari anche venderli. Quindi è stata un'idea che è nata un po' così. Dal 2009 abbiamo creato il design supermarket, è stata un'idea del nostro amministratore delegato, perché lui voleva rendere, ha voluto rendere accessibile a tutti i clienti che ci visitano il design, non solo il design italiano ma anche quello internazionale. Questa collaborazione continua e si arricchisce ogni anno sempre di più. Noi cerchiamo di selezionare all'interno dell'offerta di designers del Salone Satellite i prodotti che sono più vicini al nostro pubblico, quindi non cerchiamo il prodotto che è sicuramente avanti e che è difficilmente percepibile da un pubblico che è molto vasto e non solo di addetti ai lavori. Cerchiamo di selezionare quei designers e quei prodotti che sono poi vendibili, perché almeno diamo la possibilità a queste persone di iniziare a vendere il loro prodotto. E quindi la commerciabilità sicuramente è un aspetto molto, ma molto importante. Il materiale. Cerchiamo di fare delle selezioni di prodotti che hanno materiali diversi, dal legno alla pietra. L'innovazione. Scegliamo dei prodotti che hanno un contenuto innovativo rispetto a tutto ciò che magari è già presente e che è un déjà vu. Quindi cerchiamo di presentare sempre delle novità, senza mai dimenticare però la vendibilità e l'appetibilità per il nostro cliente del prodotto che presentiamo. Un esempio su tutti. L'anno scorso abbiamo messo in vendita la caffettiera di Fucillo, che ha avuto un grandissimo successo. Un designer italiano, quindi l'abbiamo portato l'italianità in questo palcoscenico internazionale durante proprio il periodo di Expo e abbiamo venduto tantissimi prezzi. Quindi questa è stata poi una grande soddisfazione per noi, per il Salone Satellite, ma anche per i giovani designers che hanno avuto questa grande possibilità. La direzione del design è complessa, esprime in poche parole questo concetto. Sicuramente per Rinascente il design, come ha fatto parte in passato del nostro DNA, continuerà ad essere una parte integrante della nostra strategia. E noi dovremmo cercare di essere un po' i promotori, continuare ad alimentare una ricerca di prodotti sempre nuovi che soddisfino sempre di più i nostri clienti. Perché non dimentichiamoci che da noi moltissimi turisti stranieri vengono e ci visitano. Quindi dovremmo portare a essere promotori un po' anche della nostra italianità. Il design italiano ha una forte componente, è molto molto importante. Dire quale sarà la direzione del design è molto complicato, però quello che ho visto c'è un ritorno al passato. Forse stiamo abbandonando un po' il concetto di minimalismo che era un po' tipico degli anni 2000, ma le persone si vogliono portare a casa dei prodotti che hanno comunque una storia, che hanno dei materiali che esprimono calore, ma anche una parte un po' ludica, con un contenuto tecnologico un po' diverso. Immagino il mondo della luce, c'è un'evoluzione pazzesca a questo riguardo. Ma la cosa importante è portarsi a casa delle cose che hanno un valore per ciascuno di noi e quindi esprimono e creano anche un'emozione. Quindi io vedo questa forte tendenza che ho visto durante il Salone del Mobile di quest'anno, durante il fuori salone, e ritengo che questa possa essere un po' la direzione che ha intrapreso il design. Quindi una ricerca di novità, ma comunque una forte radice col passato. Noi iniziamo a contattare i giovani designers dopo il Salone Satellite e spesso ci troviamo di fronte a delle persone che sono veramente dei giovani designers, che non hanno una struttura dietro alle spalle produttiva che li possa aiutare a produrre e a spingere i propri prodotti che hanno presentato. Spesso noi abbiamo dei prototipi in vendita perché l'industria magari dietro non c'è ancora. Un esempio dell'anno scorso, abbiamo ospitato nel nostro design supermarket una sedia di Marcus, se non ricordo male, e il costo era di 1800 euro. Era un prototipo, il prezzo retail era l'equivalente del costo di produzione. Quindi una sedia bellissima, molto design, molto di design, ma che era eccessivamente costosa per poter essere venduta su ampia scala. Quindi è fondamentale che anche con l'industria si crei un rapporto molto forte e noi possiamo essere comunque sempre quella vetrina che mette in contatto il designer con l'industria. E questo rafforzerebbe tutti perché anche un nostro rapporto più forte con l'industria ci permetterebbe di dare maggiori possibilità di vendita e di successo di prodotti che noi ospitiamo nel nostro department store.